ciao ragazzi allora questa è una nuova sezione video per te che vai di fretta per te che sei bravo dei semplici e veloci consigli o delle fasce muscolari trattate nello specifico in questo caso parliamo di addominali e potenziamento della schiena sono esercizi in medio avanzate quindi la tua preparazione deve essere ottima quindi dagli un'occhiata e se sei pronto e seguili pure per qualsiasi domanda iscriviti sotto allenati bene ciao 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 ciao